Oltre 180 piante di marijuana, alcune delle quali avevano già raggiunto l'altezza di oltre 2 metri, altra ingente quantità della stessa sostanza superficiente, già essicata ed avviata alla trasformazione del peso di oltre 120 kg, valore nel mercato illecito di oltre 1.600.000 euro. E quanto scoperto la scorsa notte in un terreno agricolo a Piazza Merina, dagli agenti della squadra mobile di Enna, diretti dal vice questore aggiunto Gabriele Presti, ha arrestato un uomo, si tratta del proprietario del fondo Alessandro Canale, 33 anni di Barra Franca, deve rispondere di coltivazione ai fini dello spaccio di droga. Gli agenti, dopo vari appostamenti, hanno scoperto un vero e proprio impianto di produzione e in particolare all'interno di uno complesso di serre dell'ampiezza di circa 400 metri quadrati, erano state piantate, come dicevamo, circa 180 piante. Nei caseggiati sono stati rivenuti circa 122 kg di marijuana già avviati alla trasformazione. Alessandro Canale è stato bloccato mentre stava per accedere al fondo agricolo. Le piante di marijuana venivano irrigate attraverso un impianto che ne consentiva una regolare bagnatura, accelerandone il processo di crescita. I poliziotti hanno scoperto dentro l'azienda una vera e propria filiera dell'attività di coltivazione e produzione della droga. Sotto chiave sono finiti circa 66 kg di marijuana tritata, sette sacchi contenenti le stesse piante già essicate, per un peso totale di 51 kg. Ed ancora, 67 panetti di polvere marijuana, 5 kg, avviate per la trasformazione in hashish. Un barattolo in vetro con all'interno dell'olio di hashish e 4 ovoli contenenti pasta di olio di hashish. Sequestrati anche una pellettatrice elettrica, una macchina per sottovuoto automatica, una centrifuga e una bilancia elettrica, dei frullatori perfettamente funzionanti ed anche uno stampino in metallo. L'occorrente è per la lavorazione, l'occultamento e il confezionamento della marijuana. Trovati anche 27 proietti di calibro 7,65 e numerose stampe ed istruzioni per la produzione, la coltivazione e la lavorazione della marijuana. Il sequestro dell'incente piantagione di droga è il più considerevole di tutti i tempi nella provincia di Enna.